Avevo un'identità biologica diversa da quella di ora, sono sempre stata una donna. Così Andrea Nicole Conte si era presentata negli studi di uomini e donne a settembre. Ora finalmente ha trovato l'amore scegliendo Ciprian. Ma durante le registrazioni di ieri 30 novembre Andrea e Ciprian si sono presentati a Maria De Filippi già mano nella mano confessando di aver trascorso la notte insieme senza avvertire la redazione. Maria De Filippi sarebbe andata su tutte le furie. Oltre ad invignare la conduttrice la tronista ha scatenato lira anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il corteggiatore si è presentato a casa della tronista il giorno prima senza consultare la redazione. Ciprian ha spiegato di essere risalito all'indirizzo di Andrea Nicole grazie al nome di un bar nelle vicinanze che aveva potuto leggere quando abbassandosi la benda che la redazione gli aveva messo negli occhi era andato da lei per un'esterna. La conduttrice delusa da quanto appreso ha sottolineato che qualora avessero avuto voglia di vedersi avrebbero potuto contattare la redazione senza fare tutto di nascosto. Cosa ne sarà adesso del loro futuro mediatico?